Anch'io andrò a dare il via a camminare per la vita e poi partirò in macchina per andare a Pontida dove usciremo con nuove idee, con nuove proposte, è sempre un momento di confronto, di incontro dove l'obiettivo è quello di rafforzarsi. Ovvio che se ci sono dei mal di pancia devono essere affrontati, io sarò presente a Pontida e spero che comunque Salvini mi chiami lo stesso. Si concede una battuta a Mario Conte quando mancano ormai poche ore al raduno leghista per eccellenza, quella Pontida su cui alleggia il diktat di Salvini, pronunciato a tavola con alcuni parlamentari leghisti, inaccettabile che figure istituzionali siano assenti sul pratone, lunedì chiamerò personalmente chi non si presenta, le parole del leader che nel Veneto, percorso da mille tensioni, hanno un loro peso specifico. Questo non lo so cosa voglia dire. Io credo che voglia fare, come dicevo prima, un richiamo al fatto che comunque avere un ruolo picale, avere un ruolo dirigenziale all'interno della Lega ha comunque anche dei doveri, comporta dei doveri soprattutto nei confronti dei militanti. E visto che Pontida è la festa dei militanti, credo sia giusto che tutti noi si sia presenti e si porti proprio rispetto nei confronti di quella che è la nostra base. E c'è chi giura che le parole di Salvini siano indirizzate tra gli altri a Federico Caner, l'assessore regionale che se da un lato ha smentito il suo passaggio in Forza Italia, dall'altro non sta lesinando critiche alla gestione salviniana. La sua stessa presenza a Pontida è in bilico, ma non c'è solo Caner. Nel vortice restano i colleghi in giunta, Bottacin e Bulldog Marcato. Io voglio sperare che questi amici rimangano in Lega, che vadano a smentire con le loro azioni, quelle che sono questi articoli, perché la Lega ha bisogno di loro. Quanto ai temi, il nodo migranti resta quello prioritario, con Salvini che ha annunciato una nuova linea dura con l'intervento, se necessario, della Marina Militare a bloccare i flussi, molto più prudente Mario Conte. Quando si parla di blocco navale è una provocazione forte per dire dobbiamo mettere la parola fine a questi sbarchi, però mi rifiuto di pensare che Salvini voglia barattare gli sbarchi con il rischio di morte di queste persone. Lo conosco personalmente, lui questa sensibilità ce l'ha nei confronti degli immigrati. Quindi voglio dire, io sono dell'idea che noi dobbiamo investire perché queste persone fondamentalmente reclamano un futuro e noi dobbiamo cercare di creare le condizioni perché il loro futuro sia nei loro paesi. Grazie. 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 Grazie.